Perché secondo me quello che conta nella vita è la quantità degli anni che viviamo, non la quantità. A me non me ne frega niente di vivere 100 anni col muso duro, incazzato, che corro tutto il giorno. Preferisco viverne la metà, ma viverme lì bene. Questa è un po' la filosofia, mi sembra, dei paesi del sud del mondo, poi chi più chi meno sono culture anche quelle molto diverse, c'è una differenza enorme tra il Brasile e l'India. Però comunque, anche in Brasile o in India, le persone più povere hanno il sorriso sulle labbra. Lì ci sono altri problemi, ci sono problemi enormi, però c'è comunque quella specie di positività che noi non abbiamo più, che noi ci siamo persi per strada, no? Noi mettiamo davanti a tutto il potere, i soldi, la carriera, il lavoro. Questo è il nostro dio, no? Noi andiamo dietro a sta roba qua. Dei paesi, soprattutto del sud del mondo, vanno dietro al sorriso, al godersi la vita, la giornata, che non è da poco.